Il tumore di Ewing è un tumore tipicamente pediatrico, l'incidenza è soprattutto fra i 5 e i 15 anni, è un tumore raro, abbiamo in Italia meno di 100 casi all'anno, è un tumore che può insorgere in tutti i distretti delle ossa e deriva dalla trasformazione di una cellula del midollo osseo, che è una cellula molto indifferenziata e che si chiama cellula staminale. È un tumore molto aggressivo con una forte tendenza a metastatizzare, tanto che alla diagnosi spesso i pazienti hanno già cellule circolanti, neoplastiche, e quindi è assolutamente necessario aggredirlo fin da subito con una terapia molto aggressiva ed efficace. Pur essendo un tumore raro, il sercoma di Ewing è stato molto studiato, soprattutto dal punto di vista genetico. È stato il primo tumore solido nel quale è stata riconosciuta la presenza di una traslocazione cromosomica specifica come evento causale della malattia. Questo è avvenuto alla fine degli anni Ottanta ed ha migliorato molto la diagnosi di questo tumore, che oggi è prevalentemente una diagnosi molecolare. Ha ovviamente aperto anche tante speranze per quello che riguarda la terapia e in questi ultimi vent'anni tanti studi sono stati fatti in questo ambito. Purtroppo è un tumore che dal punto di vista genetico ha una regolazione molto complessa, che è prevalentemente una regolazione a livello epigenetico. Quindi gli eventi causali non sono le classiche mutazioni a cui siamo abituati a pensare e per le quali sono stati identificati negli ultimi anni anche farmaci mirati in grado di limitarne gli effetti, ma invece siamo in presenza di un tumore che viene regolato da quella complessa macchina e da quei complessi meccanismi che non agiscono sull'alterazione nel DNA, ma che agiscono nel regolare l'espressione dei geni codificati nel DNA. Questa macchina, la conoscenza di questa macchina è ancora abbastanza agli inizi, sono tanti gli attori coinvolti e noi dobbiamo sicuramente capire meglio quali sono quelli rilevanti nell'ambito della patologia specifica. Il tumore di Ewing è un tumore molto aggressivo e quindi richiede una terapia altrettanto aggressiva. Lo si aggredisce utilizzando sia la chirurgia, sia la radioterapia, sia la chemioterapia. È un tumore tendenzialmente radiosensibile, viene utilizzata la radioterapia tutte le volte in cui il tumore insorge in una sede che risulta inoperabile. Quindi chirurgia e radioterapia per quello che riguarda il trattamento locale, il chemioterapia per quello che riguarda il trattamento sistemico e il controllo appunto di possibili microlesioni in circolo. La chemioterapia è anch'essa molto aggressiva, abbiamo un trattamento neodiuvante che precede il trattamento chirurgico e un trattamento adiuvante che segue il trattamento chirurgico. Si utilizzano tutti i farmaci a cui il tumore è risultato sensibile, quindi sei farmaci, tutti usati in prima linea, tutti ad alte dosi. Per i pazienti a rischio molto elevato di ricaduta si utilizza anche il trappianto di cellule staminali proprio per permettere di utilizzare questi farmaci alla massima efficacia possibile. Con questi trattamenti, che pure sono ovviamente molto impegnativi per il paziente, siamo riusciti comunque a migliorare decisamente le percentuali di sopravvivenza che per i pazienti che arrivano alla diagnosi con un tumore localizzato oggi raggiungono il 70%. Grazie a tutti.